Quando ci guardiamo allo specchio, lo facciamo per vedere come ci vedono gli altri? O per vedere se lo specchio riflette le immagini che abbiamo di noi stessi? Mar, non riesco a trovare il copione del corto. Perché ti guardi tanto allo specchio? Sei bella. No, mi guardavo e... pensavo che mi mancasse qualcosa. Che cosa? Che cosa ti manca? Credo che tu abbia tutto. Mi mancavi tu. Siamo una bella coppia, vero? Ti metti in punta di piedi per baciarmi. Perché redi? Sei proprio stupido. Dai, smettila. E allora tu come baci? Hai visto come hai fatto? Hai fatto così? Vado, non voglio fare tardi. Vai. Ci sono degli specchi nei quali non ci riconosciamo. Vado, non voglio fare tardi. Vado, non voglio fare tardi. Vado, non voglio fare tardi.